Rosa e rosa, è una cittadina di rosa e rosa Non vedo stranieri esteri ma vedo stranieri italiani del sud e del nord Mangiano e poi vogliono sempre il prezzo sempre più basso Noi facciamo il possibile per dare un prodotto Ci adattiamo Ci adattiamo comunque O meno dell'altra volta Perché c'è il suo senso la unica si cammina Ah Venite a prezende, prezende, prezende Ma lo so? Venite con noi Venite con noi a prezende Venite a prezende Venite a prezende, prezende Poi la fluenza Un po' meno dell'altra volta Ah, ah boh Perché c'è il suo senso la unica si cammina Ah Ah, ah 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 Scusate, non scomparire, non scomparire, non scomparire, non scomparire. Venite a sprecherli! L'affluenza, come è l'affluenza quest'anno? Molta affluenza, però poco di nero, poco di nero, poco di nero, poco di nero, una qualità di turismo un po' così così, aspettiamo i napoletani che stanno all'estero, più italiani o stranieri? No, più italiani, più italiani, sud, molto sud, Catania, Alecce, non mangiano di più e spendono di nero, mangiano di più e spendono di nero. L'anno scorso è stato bello perché è passato un treno che ha preso lo scudetto in Napoli, quest'anno non è stato come l'anno scorso, lo scudetto implica anche a livello economico. Vabbè, però l'anno scorso ancora non l'avevamo vinto. Ma questo periodo qua già si sentiva, il sentore già si sentiva. Senti, più stranieri o più italiani? Non vedo stranieri esteri, ma vedo stranieri italiani del sud e del nord. Mangiano di più e spendono meno, forse? Sì, mangiano e poi vogliono sempre il prezzo sempre più basso. Noi facciamo il possibile per dare un prodotto... Ci adattiamo. Ci adattiamo.